Franco Gabrielli, ben trovato, capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, toscano, perché io stavo per dire Viareggino ma facevo una gaffe, vero? Sì, Viareggino nel senso che sono nato a Viareggio 59 anni fa, ma sono nato a Viareggio occasionalmente perché all'epoca le puerpere del piccolo comune a cui appartengo Montignoso in provincia di Massacarrara andavano a partorire in quel di Viareggio e quindi anagraficamente risulto essere… E nel paese dei campalini non si può cambiare campanile? In Toscana peraltro si sono fatte guerre e quindi… Un po' tanti anni fa però, adesso rimane questo spirito guerriero comunque. Senta, lei è stato prima direttore del SISD, dell'AISI, i fantomatici servizi segreti per la gente in generale, quelli civili naturalmente, che cosa si fa nei servizi segreti che sia naturalmente e non così segreto da poter dire? No, la funzione dell'intelligence è una funzione importante, fondamentale, da questo punto di vista ho sempre il rammarico che nel grande pubblico e non solo nel grande pubblico, anche a volte tra gli addetti ai lavori, ad esempio nel mondo dell'informazione vi sia una rappresentazione non corretta. Purtroppo nel nostro paese la storia… Del cinema che ci ha traviato. Sì, anche la storia dei nostri servizi che si sono contraddistinti o meglio sono apparsi all'opinione pubblica più per i loro scandali che non per le cose positive e che credo in una moderna democrazia siano fondamentali. Forse nel nostro paese una maggiore attenzione, una maggiore conoscenza di questo mondo arricchirebbe il paese e anche la sua classe dirigente. La positività dunque è in? È quella di acquisire le informazioni per consentire al decisore politico di prendere le decisioni migliori in molti campi che non sono solo quelli della sicurezza come la conosciamo, pensiamo al mondo dell'economia, pensiamo a quelli che sono i rapporti fra stati, a quelli che sono… a quello che è il peso del paese nel consorzio internazionale. Tutto questo passa attraverso moderni, efficienti ed efficaci apparati di sicurezza quali sono i servizi di intelligence. È la parola segreti che incute naturalmente, dietrologie, scenari occulti. Purtroppo anche ha ragione, nel senso che questo è anche il paese dei misteri, il paese in cui alcune vicende non sono state chiarite fino in fondo e quindi questa diffidenza non è soltanto una diffidenza a fine a se stessa. Però ho visto che un bando fatto proprio per chiamare giovani a diventare 007 ha avuto un grandissimo successo in questo paese. Guardi, questa è una cosa che in qualche modo mi ascrivo e che fu anche un po' ridicolizzata perché io ebbi il privilegio di partecipare alla stesura della legge 124 del 2007 e siccome ritenevo che il tema della risorsa umana, come lo ritengo in ogni altro contesto, sia fondamentale e ritenevo soprattutto che una certa modalità che aveva contraddistinto e ha contraddistinto ai noi, contraddistingue alcune volte questi apparati nei quali la selezione diretta del personale prescinde dalle qualità delle persone, dovesse passare addirittura ad un vaglio concursuale, intanto per mettere l'organismo nella condizione di scegliere in un overo sempre più aperto e maggiore di soggetti che potevano in qualche modo concorrere. Quindi il fatto che oggi si pratichi questa modalità… Poi perché chi aderisce perché ci tiene davvero? Sì, ma anche perché in qualche modo le persone che ritengono di poter essere utili a questo tipo di istituzione si fanno avanti e si fanno avanti non soltanto attraverso la conoscenza che poi gli apparati hanno delle persone, ma anche attraverso la proposizione di se stessi. Farò una domanda forse un po' retorica o magari banale. Le pare che questi ragazzi cerchino anzitutto un posto sicuro, il che ovviamente non è affatto a disdicevole o che ci sia anche il senso di un servizio a quella che senza retorica esprimo posso chiamare patria? Io che sono un inguaribile idealista e ottimista continuo a pensare che al netto del 27 del mese ci sia anche una buona dose di idealità e quindi di sentimento. Io credo che a volte si dà una rappresentazione dei ragazzi o dei giovani peggiore di quella che è la realtà. Io ho tre figli e sono così, lei quanti figli ha? Io ne ho tre e credo che poi alla fin fine, dico sempre che loro sono migliori del loro padre, quindi da questo punto di vista… Comunque bisogna dirlo. Senta, lei è stato prefetto dell'Aquila dopo il dramma del terremoto, prefetto di Roma che il dramma non così grave ce l'ha nel sangue, ma questo è un mio pensiero, è capo del Dipartimento della Protezione Civile, però sono tante le indagini, immagino, che hanno segnato, che hanno maggiormente la sua storia, quali sono le esperienze investigative più forti per lei? Indubbiamente due, la vicenda della strage di Via dei Giorgofoli a Firenze del 27 maggio del 1993 e le indagini successive all'omicidio del professor D'Antona, del professor Biagi e del compianto Emanuele Petri, degli inizi degli anni 2000, anzi per la verità, il professor D'Antona fu ucciso il 20 maggio del 1999. Quelle che chiamano le nuove Brigate Rosse. Senta, dottor Gabrielli, lei è una persona molto aperta, cordiale, non nasconde mai il suo pensiero anche con i giornalisti, qualcuno ha scritto come un politico, lei pensa che la sua funzione, il suo lavoro sia anche una funzione politica? In che senso? Intanto io ho avuto la fortuna, al contrario di alcuni miei colleghi, di incontrare la politica all'inizio del mio percorso. È da ragazzo fatto un po' politica, giusto? Sì, sì, io dall'età di 14 anni fino ai 23 anni, fino a che poi non sono entrato in polizia, che era la passione della mia vita, ho militato nel movimento giovanile della democrazia cristiana. È stata una delle esperienze più formative della mia vita, perché tra l'altro ho avuto la fortuna di non avere mai a che fare con l'amministrazione, ma soltanto con gli aspetti più ideali di questa militanza. Per me la politica è un qualche cosa che ha sempre albergato nella mia mente, poi in qualche modo mi è stata compagna e anche utile soprattutto nella mia esperienza di poliziotto, quando poi sono stato chiamato a gestire soprattutto le situazioni di piazza e quindi a confrontarmi con i manifestanti, la capacità di ascoltare, la capacità di mediare, che è tipica di un certo modo di intendere la politica. Quindi da questo punto di vista non ho mai immaginato, al contrario di molti, che la politica appartenesse a una sfera negativa, a una sorta di dark side… Né a una casta. Né anche a una casta, forse perché ripeto, ho vissuto gli aspetti più ideali della politica e motivo per il quale nonostante qualcuno maliziosamente, anche nella vicenda ultima del… allora quando ho fatto il prefetto di Roma e qualcuno diceva che avessi delle abilità di fare il sindaco di Roma, siccome ho vissuto quella stagione politica, ho visto da vicino la politica, ho compreso che forse non è la cosa che più mi appartiene perché continuo a ritenere che fare il funzionario dello Stato ti garantisce quella libertà che alcuni in maniera superficiale potrebbero ritenere non propria perché sei un funzionario, quindi dipendi da un potere politico, da un governo, ma quando si interpreta il proprio ruolo come soggetti alla legge, come soggetti alle regole al quale deve sottostare il funzionario ma deve sottostare anche la politica, alla fine ti fornisce quella libertà che magari un certo tipo di compromesso cui molto spesso il politico è chiamato nella ricerca del consenso non sempre può avere. Ecco stavo proprio per chiedere, mi ha anticipato, cioè lei in qualche modo rende operative le decisioni, le politiche anzi di sicurezza stabilite dall'autorità nazionale, si riesce a essere liberi, a non essere strumentalizzati. Ma a volte anche in questa stagione nella quale a volte si continua a fare un utilizzo delle questioni di sicurezza non intese come bene comune ma come argomenti da brandire contro qualcun altro, contro una parte avversa, io mi ostino a sottolineare come ogni funzionario non serve il governo del momento, il funzionario serve lo Stato, poi il funzionario è soggetto agli indirizzi del governo del momento, il governo che è stato democraticamente eletto, ma anche gli indirizzi soggiacciono alla legge e siccome non ci sta scritto da nessuna parte che uno debba necessariamente svolgere la propria funzione se questo non si realizza e credo che si possa farlo, cioè senza nessun tipo di compromesso oltre un certo limite. Poi ognuno di noi è abbastanza adulto e vaccinato da ritenere che poi la politica intesa come la realizzazione delle cose che è opportuno fare ha bisogno anche di soddisfare aspetti di propaganda, aspetti anche di decorazione. In ogni tempo, però ripeto, in vari paesi non solo nel nostro. Sì, 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 ma questo attiene credo al… Lei, intanto penso che tipo di responsabilità senta sulle sue spalle, che immagino spartisco come tra i suoi uomini, ma responsabilità innanzitutto per i suoi uomini e poi per il resto del paese. Sì, riguardo, io utilizzo questa espressione, io non ho molti dipendenti, ma dipendo da molta gente, cioè nel senso che ritengo che chi ha compiti di responsabilità alla fin fine dipenda dal lavoro degli altri, dipenda dall'abnegazione degli altri, dipenda… Ma la chiamano tutti capo qui e per una volta, per un motivo chiaro, perché è il capo della poesia? Tra l'altro, lei lo sa che noi abbiamo questa sorta di piccolo orgoglio che poi è un vezzo, che nel nostro sistema, nella nostra pubblica amministrazione, non esiste nessun altro vertice, oltre ovviamente il capo dello Stato e il Presidente della Repubblica, che coniuga immediatamente la funzione di vertice con la funzione che si esercita, capo della polizia. Mentre tutti gli altri, comandante generale dell'arma dei Carabinieri, comandante generale della Guardia di Finanza, ma nessuno capo della polizia ha in maniera così sintetica questa sorta di rappresentazione del vertice dell'amministrazione che rappresenta. Mi permetta di fare una precisazione, perché l'aspetto lessicale molto spesso è un aspetto che dà anche il segno della comprensione delle cose. Purtroppo c'è qualcuno che aggiunge capo della polizia di Stato. Questo è un gravissimo errore, perché intanto capo della polizia si dice dal 20 dicembre del 1923, ed è la definizione con la quale si individua il vertice dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Quindi il capo della polizia non è soltanto il vertice della polizia di Stato, ma è anche l'organismo tecnico attraverso il quale o con il quale o per il quale il Ministro dell'interno, autorità di pubblica sicurezza, amministra l'amministrazione della pubblica sicurezza. Quindi è un concetto che va al di là di quella che nel linguaggio comune molto spesso identificano soltanto come il vertice della polizia di Stato, che ricordo a me stessa, è molto più giovane perché è nata il 25 di aprile del 1981. 81. Sulla responsabilità? Sulla responsabilità credo… E dormi sempre sereno? Intanto io dormo, però ecco sento tutta la responsabilità che deriva dal fatto di intanto di avere la consapevolezza che le mie decisioni ricadono nella vita di uomini, di donne e che in quota parte nel mio lavoro c'è anche la sicurezza e la tranquillità del mio paese. A questo proposito noi siamo un paese sicuro, Gabrielli? Terrorismo esterno è di casa nostra, mafie interne ed esterne anche. Quanto siamo sicuri? Perché i dati che ha diffuso proprio recentissimamente la polizia ci dicono che i reati sono tutti calati, a parte quelli degli incendi dolosi mi risulta, però la percezione della gente è quella dell'insicurezza, perché abbiamo paura? Beh io credo che refluiscano diversi fattori, intanto perché la sicurezza non è soltanto la sicurezza strategica, quella che noi addetti ai lavori chiamiamo sicurezza strategica, quindi la sicurezza che viene interpretata dalle forze di polizia, dalla magistratura. Esiste una sicurezza economica, una sicurezza sociale ed è indubbio che il nostro paese in questo momento stia attraversando una stagione ormai da qualche anno di precarizzazione del mondo del lavoro, di minore disponibilità del suo ceto medio da un punto di vista delle risorse, stiamo invecchiando e quindi invecchiando aumentano le paure, esiste un tema di paura globale, lei pensi che incrociando le dita e al momento in cui noi stiamo parlando il nostro paese è l'unico paese dell'Europa che non ha avuto un attentato, ma durante gli anni 2015-2016 quando in Europa avvenivano i fatti Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza, i mercatini di Berlino, anche i nostri cittadini, i nostri concittadini ponevano al vertice delle loro paure il terrorismo, quindi oggi le paure ti entrano in casa, oggi le paure sono globalizzate. Ora apriamo un'altra parentesi anche perché lei di questo tema è stato invitato a parlare al Festival Biblico, lei è un uomo di fede? Le mie origini da democristiano credo che connotino la mia inequivoca formazione cattolica, peraltro sono stato anche un attivo partecipe alla vita della comunità parocchiale fino ai vent'anni, poi ho cominciato a girare e quindi questo è stato un po' meno possibile. Oggi mi definirei un credente macerato dal dubbio, nel senso che le radici sono fortemente tali, però è una continua ricerca forse di qualche cosa, di un approdo che magari quando ero più giovane ritenevo molto più certo e adesso invece… Rimane però questo sguardo e questa formazione nel modo di stare con i propri uomini e nella responsabilità che uno sente per la gente? Indubbiamente questa, credo è la cifra che rivendico con maggiore forza. non perdo mai occasione ai miei uomini e alle mie donne di invitarli a mantenere la propria umanità e ricordando loro che financo chi delinque è pur sempre una persona e quindi come tale deve essere destinatari e deve essere meritevoli di un'attenzione e di una considerazione. Tornando al tema delle paure e dei pregiudizi, io credo oggi in realtà che si abbia paura della prossimità, più che certo il terrorismo è uno sfondo inquietante e ce n'è motivo, ci mancherebbe perché voi siete molto bravi, il nostro paese ha delle professionalità eccelse indubitamente, però un po' l'idea sotto traccia che abbiamo avuto anche fortuna resta nella percezione comune. Assolutamente. Però invece l'idea di uscire di casa e essere derubati, l'idea per le donne soprattutto di subire violenze, anche se le statistiche dicono che i numeri reati sono calati, con questa percezione di non poter lasciare andare i nostri figli da soli, dello straniero che può farti del male, questo crea paura. Indubbiamente, poi c'è anche da dire e soggiungo che al di là degli aspetti a cui facevo riferimento, di una complessità del tema sicurezza, esiste anche una questione che attiene a un inevitabile, innegabile e anche poco non confessabile aumento dei reati predatori, che poi sono quelli che in qualche modo incidono di più sulla percezione di sicurezza. e attenzione, tanto più il reato è targettizzato, nel senso si rivolge a un target definito, e tanto meno produce un effetto di paura diffusa. Tanto il reato è in qualche modo non targettizzato e tanto maggiore è la ricaduta. L'esempio lo possiamo trarre anche dalle vicende del terrorismo. Noi siamo un paese che ha vissuto una stagione di terrorismo interno particolarmente significativa, ma le paure che derivavano da quel tipo di terrorismo, soprattutto quello di matrice marxista-leninista, che era un terrorismo molto targettizzato, il poliziotto, il magistrato, l'operatore del mondo dell'informazione, l'imprenditore, il politico, ovviamente poneva gli altri nella condizione sì di una preoccupazione generica, ma non di una preoccupazione specifica. Oggi che l'obiettivo può essere chiunque, il frequentatore di un teatro, il frequentatore di una metropolitana. Tanto più la fonte della minaccia è indeterminata e tanto più è ampio il novero dei soggetti dai quali pensi tu ti debba guardare. Sì, una cosa di cui mi è venuta in mente pensando, lavorando sulla mafia, ma anche recentemente sui fatti di Camorra. È come se per tre quarti dell'Italia riguardassero solo un pezzo del paese e quindi non creano preoccupazione eccessiva. Poi attenzione, anche lì c'è, io ricordo quando, sempre quando facevo il prefetto e che era il mio costume girare per i municipi, dove poi alla fin fine il tema molto spesso che fosse il primo municipio o il sesto, noto alle cronache con il nome di Torbella Monaca, a volte l'elemento più ricorrente erano i rom, erano i rovistaggio nei cassonetti dell'immondizia e allora a volte provocatoriamente dicevo, mi rendo conto che l'odore di un cassonetto rovistato impatta immediatamente e quindi di questo si ha una immediata percezione, però ci sono altre cose come il riciclaggio, che puzzano di meno, ma hanno un impatto molto più devastante sui sistemi, sull'economia legale, su quelle che sono… e purtroppo in questo senso c'è a volte un atteggiamento e qui c'è una sorta di fil rouge che appartiene un po' alle mie esperienze nei mondi della sicurezza o della safety, che è il tema della consapevolezza. Io continuo a sostenere che si tratti di security, di safety, uno degli elementi importanti, fondamentali, dirimenti è la consapevolezza da parte di ognuno. La consapevolezza può essere enfatizzata o ridotta a seconda della comunicazione che su quel tema viene attuata e mi riferisco in particolare a comunicazione social. Il tema delle fake news e della richiesta continua di controlli, che crea un altro problema, quello di chi fa i controlli come vengono fatti, il tema degli hate speech, cioè di questi odiatori, aumenta la sensazione di precarietà e quindi le nostre paure. Non a caso lei correttamente e acutamente fa riferimento a tutta la problematica della veicolazione delle informazioni attraverso il mondo dei social. Recentemente c'è questa bellissima intervista di una sua collega dell'Observer sulla Brexit, in cui in questo piccolo villaggio del Galles, dove peraltro i soldi dell'Unione Europea hanno fatto la differenza, perché il palazzetto è stato costruito con i soldi dell'Unione, le strade con i soldi dell'Unione e quindi dove ci si sarebbe aspettato un esito elettorale favorevole al cosiddetto Remain, invece il Leave prevalse, quindi peraltro con percentuali altissime e poi quando la sua collega va a fare questa intervista si accorge che quella famosa profilatura fatta da Cambridge Analytica sui profili Facebook che avevano consentito di indirizzare la propaganda in maniera non sempre corretta e quindi stravolgendo anche la percezione della realtà aveva fatto la differenza. Questo sarà, lo è stato per quella vicenda, ma ritengo che lo sarà per molto tempo uno dei temi con i quali ci dovremmo confrontare. E' anche difficile esercitare un controllo, perché il tema della libertà è altrettanto importante. Assolutamente, su questo anche qui non perdo occasione di dire che la rete è un grande spazio di libertà, che sono molto di più i benefici che derivano dalla sua libertà, anche la televisione, che non interventi repressivi o limitativi di questa libertà. Senta, che percezione ha di come la gente vi vede? Vi sentite voluti bene? E uso questo termine non a caso. Ma guardi, quando ero ragazzo nel mio paese, quando una persona voleva sottolineare la sua onorabilità, diceva non sono mai entrato in un ufficio di polizia. E questo ancora per certi aspetti permane nella cultura della gente. E' indubbio che dopo la stagione degli anni di piombo i cittadini abbiano imparato a viverci non necessariamente come il braccio armato di un potere lontano, ma sempre più un po' alla pasoliniana maniera come figli e come figli nemmeno poi così privilegiati della società. E questo in qualche modo si è mantenuto. E oggi io leggo ad esempio la richiesta che viene dalla stragrande maggioranza dei cittadini di avere più poliziotti, più carabinieri, più finanzieri, come questa evoluzione positiva di chi in qualche modo non ci vede più come espressione di un potere esterno quasi matrigno, ma ci vede come un presidio di legalità. Questo è molto importante e mi lasci dire con orgoglio che nell'ultimo rapporto Eurispes la Polizia di Stato in termini di credibilità si pone nei piani più alti di questa classifica ed è la forza di polizia più apprezzata dagli italiani. Tuttavia in alcune frange spesso di coetanei dei nostri figli o dei loro maestri c'è ancora l'idea che i poliziotti sono i nemici e lo vediamo in alcuni cortei, manifestazioni, con accuse in qualche raro caso suffragate dalla realtà di violenze gratuite. Questo è, d'altronde gli unanimismi sono sempre stati in qualche modo preoccupanti e quindi io non… anche se, come dico spesso anche ai miei, forse più dell'interesse per magari il 70% che ci apprezza, dovremmo andare a ricercare le ragioni del 30% che spesso sono ideologiche, che in quota parte dipendono anche da nostri comportamenti perché poi anche qui credo che ognuno di noi debba sempre avere il buon gusto per un verso e l'onestà intellettuale per l'altro di riconoscere che ci sono anche dei comportamenti che dipendono da noi e che non sempre intercettano quella doverosa immagine e non solo immagine ma molto sostanza di istituzione al servizio del paese, a volte anche noi pecchiamo di autoreferenzialità, anche noi a volte facciamo errori che come sottolineo spesso chi delinque, chi sbaglia vestendo una divisa lo fa due volte, lo fa come cittadino, ma lo fa anche perché i cittadini ripongono in quella divisa un'aspettativa e quindi c'è un patrimonio di credibilità e quindi un tradimento più grave, però ripeto credo che da questo punto di vista le nostre forze di polizia nel loro complesso sono forze di polizia sane, sinceramente e profondamente democratiche. Le domando, ma voi avete un inno? E' mia ignoranza non conoscerlo, perché noi chiudiamo sempre con una canzone, non glielo farei cantare. Noi abbiamo una marcia che si chiama Giocondità, che è una sperce di inno, abbiamo una bellissima preghiera, peraltro sia nella forma di San Michele Arcangelo, ma ce l'abbiamo non solo nella forma di preghiera come siamo abituati a recitare ogni preghiera, ma anche nella sua forma musicata, peraltro bellissima, molto suggestiva, alla quale noi teniamo particolarmente, perché la protezione divina non guasta mai. Grazie, grazie di cuore, grazie mille. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.